È una ricaduta che andremo a misurare nel tempo. È importante però vedere, è capitato a me personalmente, più volte di incontrare nei giorni festivi gruppi di escursionisti che percorrono i sentieri che sono stati tracciati proprio in conseguenza e collegati all'evento. È chiaro che la manifestazione su cui vi siete concentrati e che probabilmente determina una reazione di diversa opinione. È evidente che se una ha un'opinione diversa e non la vuole accettare quella dell'altra si fa fatica a incontrarci. La manifestazione dell'evento artistico, più o meno condivisibile, ed è legittimo non essere d'accordo e non trovarsi nella stessa opinione, è assolutamente legittimo. Però quella manifestazione ha aperto e ha portato prima all'organizzazione dei sentieri, a promuovere l'evento. E abbiamo coinvolto sia imprese locali, le attività dove si vanno a prendere le timbrature per il passaporto, e sia gli artisti locali. E fra gli artisti di fama nazionale ci sono anche artisti locali, o quelli non valgono. E quindi è una manifestazione che ha aperto un percorso, vi dico anche, citata e richiamata da altri eventi, perché ci sono anche altri progetti. Il tema dei percorsi e della sentieristica è un tema che sta sviluppando sempre più la promozione del territorio. I GAL, gruppi di azione locali della regione Emilia-Romagna, stanno tutti lavorando sullo sviluppo dei sentieri e dei percorsi, il percorso della Via Francigena, il percorso di San Francesco, il percorso di Sant'Antonio, che passa anche di qui, mi è capitato di incontrare anche quelli. Quindi questo è un tema che è inserito bene nell'ambito del progetto dei sentieri agrourbani, e altri hanno apprezzato invece proprio il lavoro che abbiamo fatto. Modigliana credo che sia uno dei pochi comuni che può vantare oggi di avere tutta la sentieristica tracciata e ben evidenziata. Sta all'interno di un progetto di rilancio. È chiaro che si tratta di una promozione del territorio che viene avviata e che è anche in linea, come avevamo richiamato, in sintonia con gli obiettivi di quando Modigliana decise di partecipare nel 2015 alla manifestazione che si fece a Milano con la presenza del Comune e con uno stand del Comune. con la presenza del Comune e con la presenza del Comune. Grazie. 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 Una sola precisazione. Non abbiamo mai dato i numeri. Io non sono abituato a dare i numeri, non mi piace. Quando abbiamo parlato il giorno della manifestazione, al termine della manifestazione, abbiamo detto ci sono stati 400 persone nella giornata della domenica, 100 persone nell'altra giornata, complessivamente 500. Non è che diventeranno 600. Speriamo che diventino di più con le persone che vengono, i gruppi organizzati, che vengono a visitare e a percorrere i sentieri. Speriamo che diventino molti di più e che ci sia quel ritorno economico, anche di valorizzazione del nostro territorio, perché viene conosciuto e diffuso. L'assessore Rosa Grassi. Sì, io vorrei aggiungere anche che i fondi utilizzati, questi fantomatici 10.000 euro, fanno parte della legge 37 della regione Emilia Romagna, a cui abbiamo partecipato e ricevuto i fondi, e che finanzia progetti di stretto rapporto culturale e di valorizzazione del territorio. Quindi quei fondi non potevano essere utilizzati per qualsiasi tipo di progetto. E anche sulla singola giornata è un'informazione sbagliata, perché se anche guardate tutta la pubblicità e la comunicazione fatta per l'evento, le opere sono sì temporanee, perché sono pensate in modo tale che un giorno non saranno più visionabili, ma c'è scritto ovunque che saranno visionabili fino al loro deperimento naturale. Quindi l'albero finché non ha perso le foglie, quindi è ormai la sua fine, le altre opere e così via. Quindi è stata una giornata di visibilità, che però è una richieduta più lunga nel tempo, che si rifà ad altri esempi, che possono essere di livello nazionale, vogliamo dire arte-sella, ma chiaramente non tocchiamo quei livelli e quelle spese, ma se andiamo in un rapporto più locale, il Parco delle Sculture di Santa Sofia è della stessa identica linea di pensiero, cioè utilizzare l'arte per far conoscere luoghi altrimenti sconosciuti alla maggior parte delle persone, anche a livello locale. Quindi diciamo che, secondo me, molte delle informazioni comunque contenute nella vostra interpellanza hanno un fondamento scorretto che non si rifà alla comunicazione e alla provenienza dei fondi utilizzati. Ci sono altri interventi? Mi dispiace. Prego. Mi dispiace. Bene, possiamo passare al punto 7? Allora, punto 7, comunicazione delibera adottata dalla Giunta Comunale contenente prelevamento del fondo di riserva. passo la parola all'assessore Stefania Fabri. Buonasera. Si dà comunicazione... Ecco, parla vicino al microfono, è acceso. Mi sentite? Si dà comunicazione del prelevamento effettuato dal fondo di riserva con la delibera di Giunta numero 143 del 3 dicembre di quest'anno. Allora, sono stati effettuati i seguenti prelevamenti per queste destinazioni. In area amministrativa, 1.592 euro per spese notarili e spese agenzie ad entrate per l'eredità della signora Maccolini. 752 euro per accantonamento Onere e Irap, retribuzione della segretaria Scavalco. 1.329,50 euro Onere e Irap, fondo decentrato dei dipendenti. In area tecnica, 184,64 euro per commissione alloggi, 152,50 euro per acquisto router access point per il teatro. Totale prelevamento dal fondo 4.010,64. Questa è una comunicazione, quindi non necessita di voto. Se non ci sono osservazioni... Passerei al punto successivo. Passiamo al punto 8, relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate. detenute dal comune al 31-12-2019. Sempre l'assessore Fabri. Allora, al 31-12-2019... Allora, nella seduta di Consiglio Comunale del 28-11-2020, del 29-12-2020, si era approvato con una deliberazione un piano di revisione annuale delle società partecipate che prevedeva un'azione sull'ente Fiera di Forlì. In questo atto, che si va a deliberare questa sera, si relaziona esattamente su questo evento, ovvero, il piano di revisione annuale che prevedeva questo intervento sulla Fiera di Forlì è stato attuato. C'è stata una ristrutturazione societaria con riorganizzazione aziendale della società Fiera di Forlì e S.P.A. per il contenimento dei costi della stessa, con la nomina di un amministratore unico e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Nel 2020 si è perfezionata la trasformazione della società da S.P.A. in S.R.L. con la possibilità di nominare un sindaco unico ed è stato adottato un nuovo statuto. Questo adempimento il Comune di Modigliana è tenuto a deliberarlo in quanto è fra i comuni che detengono le quote societarie della Livia Tellus che è la holding che gestisce le partecipazioni nelle varie società in cui anche il Comune è in parte partecipe. Quindi si chiede al Consiglio di deliberare in merito al fatto che si prenda atto che è avvenuta questa revisione di Forlì Fiera prevista a suo tempo. Prendo la parola. Peraltro noi siamo attenuti di questo noi non siamo soci di Forlì Fiera se dobbiamo precisarlo essendo che siamo aderiamo a Livia Tellus che è la società costituita dai 15 comuni che rappresenta gli enti dei comuni dell'Unione della Romagna forlivese quelli attuali per capirci all'interno delle compagini societarie Forlì Fiera è una di quelle società detenute ma è una società interamente in capo al Comune di Forlì per precisazione. dobbiamo mettere in votazione chi è favorevole alzi la mano contrari asdenuti approvato all'unanimità avete visto l'unanimità che sia Gentilini che Bonfanka. punto 9 revisione ordinaria chiedo scusa per la delibera punto 8 relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate chiedo l'immediata esecutività della delibera chi è favorevole alzi la mano contrari astenuti approvato all'unanimità anche chi è in videocollegamento grazie punto 9 relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31-12 2019 Stefania faccio io se si tra proprio in conseguenza a quello che ho poc'anzi dichiarato noi aderiamo a Livia Tellus e la società di che per conto dei comuni proprio per dare peso al territorio nell'ambito delle varie società partecipate rappresenta i 15 comuni la società partecipate al comune di Modigliana in Livia Tellus detiene l'1,226% in Lepida lo 0,015% in ERA lo 0,0000 284% in AMER e così via è evidente che mettendosi insieme ed è questa è stata una scelta mi permetto di dire lungimirante e corretta da parte di chi ci ha preceduto per dare quel peso di rappresentanza del territorio in seno alle tante società partecipate appunto Livia Tellus gestisce e rappresenta gli enti del territorio quindi con questa delibera si dà atto di approvare la verifica annuale delle partecipazioni societarie del comune di Modigliana di dare atto che per le ragioni espresse nei documenti legali la società partecipante dall'ente che restano nel portafoglio finanziario del comune e non necessino di interventi di razionalizzazione sono le seguenti Ale Ambiente Spa che è detenuta da Livia Tellus AMR Fiera di Forlì Forlì Mobilità Integrata Forlì Pharma ERA SPA Lepida SCPA Società Pubblica Livia Tellus Romagna Holding Romagna Acque Sapir Start Romagna Tecne Società di responsabilità limitata di Forlì Unica Reti Plurima SPA Si tratta di tutte le società complessivamente partecipate da Livia Tellus anche laddove il comune di Modigliana non è direttamente partecipe è il caso di Tecne così come il caso di Forlì Pharma o come il caso che citavamo prima di Fiera di Forlì tutte le società che all'interno della gestione di Livia Tellus sono controllate verificate e gestite in modo corretto e confacente chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri se non ci sono interventi posso mettere in votazione e poi chiedo anche la immediata esecutività dell'atto chi è favorevole alzi la mano contrario astenuti approvato all'unanimità chiedo la immediata esecutività dell'atto chi è favorevole alzi la mano contrario astenuti approvato all'unanimità vi ringrazio passo al punto 10 pressi di cessione delle aree e dei fabbricati e dal punto 10 al punto 15 l'argomento in trattazione è il bilancio di previsione se permettete faremo una relazione unica è una discussione con un voto singolarmente ma per dare un senso di una trattazione dell'argomento legato al bilancio presentando le linee un documento che i consiglieri hanno avuto relativo alle linee di indirizzo per il bilancio di previsione 2022 il bilancio che presentiamo tiene conto degli inevitabili contraccolpi derivanti dalla gravissima vicenda che un anno fa ha portato agli arresti dell'ex responsabile dei lavori pubblici determinando nella struttura amministrativa una situazione di grandissima difficoltà della vicenda abbiamo già riferito in sede di consiglio comunale la denuncia partita dall'amministrazione comunale è stata oggetto di indagini approfondite ed è attualmente all'esame del tribunale che speriamo al più presto assumerà le decisioni in merito ad oggi possiamo affermare che a seguito del rinvio a giudizio molti titolari delle imprese coinvolte hanno sottoscritto accordi di patteggiamento assumendosi la responsabilità e riconoscendo il danno recato al comune restituendo le somme oggetto degli accordi sottoscritti e presentati alla valutazione del giudice somme che saranno impegnate a favore e a sostegno di nuovi investimenti abbiamo il desiderio di poter realizzare un'opera pubblica interamente realizzata con gli oneri restituiti al comune a rimborso del danno recato che sia di monito e di ricordo ai cittadini di quanto hanno subito in anni di cattiva gestione della macchina amministrativa di lavori pagati e non eseguiti di cattiva e superficiale manutenzione di mancati controlli l'incertezza per l'attività della macchina amministrativa è ancora evidente a causa delle non poche difficoltà per la copertura dei posti vacanti nei diversi comparti dell'amministrazione ai primi di gennaio entrerà in servizio un nuovo tecnico e andrà ad affiancare l'attuale struttura dell'ufficio tecnico ed urbanistica che resta carente ancora di una figura professionale nel settore dell'urbanistica a seguito del trasferimento sulla base di un bando per articolo 110 del comune di Meldola dell'architetto Francesco Zucchini che impone al nostro comune la conservazione del posto fino al termine del suo incarico un posto che abbiamo coperto con incarico professionale che ha consentito di far fronte ai tanti adempimenti in materia urbanistica che hanno portato ad una forte ripresa nel comparto delle costruzioni siamo ancora alla ricerca della possibilità di ricoprire il posto nell'area amministrativa vacante dallo scorso mese di maggio dopo che due giovani laureate hanno rinunciato all'incarico avvicinandosi dopo aver svolto il periodo di prova ai comuni di residenza il 2022 sarà poi caratterizzato dal pensionamento di diversi dipendenti impegnati attualmente nel settore finanziario e nel servizio lavori pubblici persone capaci ed edite al lavoro che lasceranno per limiti di età ma che sappiamo non sarà semplice sostituire l'avvio dei bandi e la selezione del personale caratterizzeranno una parte importante dell'attività amministrativa del comune con l'obiettivo di riuscire a dare continuità all'attività dell'ente attività già di per sé impegnative e difficili che si scontrano con le difficoltà quotidiane della vita amministrativa degli addempimenti incessanti a cui si aggiungono oltre agli aspetti organizzativi dell'ente anche il processo di reorganizzazione dell'unione dei comuni della Romagna forlivese che dal 1 gennaio vedrà l'uscita del comune di Forlì un'unione più piccola a cui aderiscono 14 comuni legati più dalla necessità di mettere assieme le risorse economiche e professionali per dare risposte ai cittadini dei rispettivi territori che non mossi da una scelta strategica solo mettendo assieme le risorse fra i 14 comuni è possibile sostenere una struttura organizzativa perché per la gran parte dei piccoli comuni che compongono l'unione non sono in grado di sostenere ci sono comuni con 4 o 5 dipendenti e tutti debbono rispondere agli addempimenti in favore di cittadini e imprese che operano nel territorio servizio del personale servizio informatica sportello unico attività produttive polizia municipale gestione forestale antisismica servizio urbanistica centrale unica di committenza sono alcune delle funzioni dell'unione che i comuni possono gestire solo mettendo assieme le risorse e sarà necessario dotare la struttura dell'unione anche di un ufficio in grado di concorrere ai bandi per poter accedere ai fondi del PNRR affinché possono rappresentare ricadute positive in favore del territorio attività questa a cui dovrà partecipare oltre che per la manutenzione delle strade anche la provincia da poco rinnovata nei suoi organismi di governo nel contesto dell'unione è evidente la diversa situazione geografica e di relazione dei servizi di Modigliana molto legata territorialmente all'asse viario della via Emilia e di Faenza di cui istituzionalmente non facciamo parte una collocazione che ci penalizza e che ci impone uno sforzo maggiore di relazioni e di contatti verso un'area geografica ed economica con la quale la nostra comunità ha continue relazioni e verso la quale si rivolge per ottenere servizi non possiamo dimenticare che poriamo ancora in un quadro di emergenza sanitaria che stiamo affrontando da ormai due anni e che non è terminata viviamo quotidianamente le difficoltà dei cittadini e imprese e soprattutto abbiamo acquisito consapevolezza di quanto sia importante e necessario strutturare al meglio il servizio sanitario che deve essere radicato e collegato al territorio certamente grandi strutture specializzate ma collegate ad una rete territoriale che sia altrettanto efficiente nella rete di servizi al territorio lo abbiamo visto con l'organizzazione del centro per le vaccinazioni presso la sala polivalente comunale in cui sono state inoculate oltre 10.000 vaccinazioni ben oltre il numero degli abitanti di Modigliane e Tredozio un risultato straordinario frutto dell'impegno e del lavoro del personale sanitario che a sé dedicato ne raggiungono un risultato che ci ha aiutato a migliorare la tutela sanitaria dei nostri concittadini alle vaccinazioni si è affiancata l'importante attività di prevenzione presso la tenda allestita in piazza Oberdan dove si sono eseguiti centinaia di tamponi e che prosegue ancora oggi nei locali adiacenti agli ambulatori questo risultato è stato possibile grazie all'impegno straordinario ed incommiabile dei volontari della Croce Rossa del Nucleo Volontario di Protezione Civile del Lauser del Gruppo Alpini ai quali vogliamo rinnovare il più sincero ringraziamento per il loro impegno prezioso e straordinario i vaccini sono stati e rappresentano la grande speranza per uscire finalmente da un quadro di emergenza sanitaria con il quale dovremo operare fino ai mesi della prossima primavera non avevamo mai dovuto affrontare un periodo di emergenza per un arco di tempo così lungo durante il quale si è di fatto bloccata l'attività amministrativa e fortemente rallentata l'attività di aggregazione delle persone in cui ogni addempimento è stato complicato da procedure sanitarie che ne amplificano le difficoltà e ne rallentano i tempi di risposta il bilancio il bilancio di previsione prende spunto dalla conferma sostanziale delle poste di spesa già in essere nel bilancio che si sta per chiudere una sostanziale continuità in una gestione parsimoniosa delle risorse necessaria per garantire la tenuta del bilancio restano invariate nella proposta di bilancio le aliquote IMU e per le aree fabbricabili consapevoli che per il nostro comune così come per la gran parte della comunità collinaria e montane esiste un problema legato ai valori immobiliari che tendono a depressarsi in conseguenza della vetustà dei beni e di una tendenza alla diminuzione di residenti e all'invecchiamento della popolazione residente molto importante è la scelta attuata dalla nostra regione di avviare un bando per la montagna a favore di giovani con meno di 40 anni che ha messo a disposizione risorse per oltre 20 milioni di euro contributi a fondo perduto per l'acquisto della casa che abbiamo notizia verranno riaperti a cui si aggiungono 25 domande presentate per il bonus focciata e bonus 110% scelte importanti che hanno contribuito a rimettere in moto il comparto delle costruzioni indirizzate in modo determinante verso la riqualificazione urbana e la ristrutturazione degli edifici in un'ottica di valorizzazione qualificazione e risparmio energetico anche per i servizi a domanda individuale abbiamo scelto di confermare le tariffe esistenti non varieranno i costi per la mensa e il trasporto scolastico con la positiva eccezione del costo del servizio per l'asilo nido che grazie al contributo della regione Emilia Romagna ha visto confermato una riduzione del 30% nel costo delle rette favorendo così l'accesso ad un servizio indispensabile per le giovani coppie è utile a favorire l'accesso al lavoro per entrambi i genitori come avevamo già evidenziato nel bilancio di previsione dello scorso anno nei costi di bilancio sono previste le coperture necessarie a fare fronte ai costi di gestione dei servizi a rete notevolmente aumentati in conseguenza del forte innastamento dei costi energetici tema questo di portata internazionale ma che penalizza i consumi delle famiglie delle imprese e degli stessi enti pubblici problematica che evidenzia la necessità di avviare per i paesi una nuova politica energetica che si affianchi ad una politica industriale che dia fiato e sostegno al tessuto produttivo del nostro paese che ha risentito della grave situazione di crisi in conseguenza della pandemia ma anche di una arretratezza delle infrastrutture il tessuto economico di Modigliana ha dimostrato una straordinaria capacità di riorganizzazione e di sviluppo guardando competitività con competitività ai mercati internazionali su cui operano le principali imprese insediate nella nostra comunità che oggi segnalano la difficoltà nel trovare professionalità da inserire all'interno dei loro percorsi produttivi e commerciali una difficoltà che può rappresentare un'opportunità di nuova attrazione verso le aree interne cui appartiene anche il territorio del nostro comune lo sviluppo dei servizi l'attenzione e sostegno alla rete commerciale che caratterizza il nostro territorio sono elementi che intendiamo porre al centro dell'azione amministrativa e fra poche settimane confidiamo di vedere finalmente ultimata la posa dell'infrastruttura della fibra ottica strumento indispensabile per avere collegamenti veloci della rete informatica per abitazioni imprese manteniamo i contributi a favore delle famiglie e benambienti una scelta necessaria per garantire equità e solidarietà sociale confermiamo inoltre il sostegno alle famiglie dei nascituri per il quale il nostro comune ha mantenuto negli anni un contributo a favore delle famiglie residenti alietate dalla nascita di un figlio purtroppo su questo capitolo vi sarà una significativa riduzione a causa del forte calo delle nascite solo 22 nati nel corso del 2021 e anche del 2022 un dato allarmante per il futuro della nostra comunità purtroppo in linea con l'andamento nazionale e che evidenzia una crisi di fiducia verso il futuro molto importante è la scelta adottata dalla regione miglioromagna a sostegno del costo del trasporto scolastico per le famiglie dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado con esenzione del costo fino ai 30.000 euro di ISEE una scelta che va nella direzione di sostenere le famiglie residenti nei comuni collinari e di non penalizzarli rispetto ai residenti nelle città sedi degli istituti scolastici di secondo grado le problematiche legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio sono un tema prioritario nell'azione amministrativa dopo l'esperienza traumatica dell'agosto del 2017 quando Modigliana si trovò improvvisamente senza acqua potabile abbiamo avviato contatti con la società Romagna Acque con l'obiettivo di affrontare la programmazione di interventi in grado di garantire l'approvvigionamento idrico per la nostra comunità anche a fronte di una prevedibile situazione di emergenza climatica che vede sempre più preziosa la risorsa dell'acqua con Romagna Acque assieme al Comune di Tredossio che condivide con noi le fonti di approvvigionamento abbiamo condiviso l'opportunità di agire verso la Regione affinché ci possa essere autorizzata la possibilità di realizzare invasi da realizzarsi anche nel nostro territorio che consentono di avere garantita la disponibilità di acqua potabile per la nostra comunità pur nelle situazioni di elevata siccità i rapidi mutamenti climatici ci chiedono di agire in tempi brevi non possiamo disperdere inoltre la disponibilità manifestata dalla società Romagna Acque di sostenere l'onere dell'investimento necessario sono stati effettuati sopralluoghi e si stanno definendo proposte progettuali idonee a dare soluzioni alla costruzione di invasi ai fini potabili per la messa in sicurezza delle esigenze idriche dei cittadini sul piano degli investimenti vedremo il completamento della costruzione della nuova scuola materna individuata nell'area dell'attuale scuola scuola Punta Roli unitamente ad importanti interventi di ripristino manutenzione e messa in sicurezza del vecchio edificio e per i quali sono già stati ottenuti i necessari finanziamenti si confermono gli interventi che abbiamo previsto sulla viabilità che dovremmo definire in accordo con la provincia di Follice-Sena per la messa in sicurezza dell'incrocio tra le vie Punta Roli e Marconi si confermono gli interventi per la manutenzione stradale oltre gli interventi per il risparmio energetico già affidati in molti edifici pubblici e i contributi di partecipazione agli interventi per la manutenzione delle strade consortile nel corso del 2022 si attueranno gli investimenti previsti in relazione al bando per la gestione della pubblica illuminazione sulla base della convenzione con unica reti dalla manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione fino alla realizzazione di un'efficace rete di videosorveglianza ci auguriamo che vengono presto superati gli ostacoli frapposti al ricorso presentato da una ditta concorrente e per ora rigettato dal TAR sono in fase di affidamento i lavori per euro 470.000 per la mitigazione del rischio idrogeologico con i quali si interverrà sulle frane attive in via Carlo Alberto della Chiesa via dei Frati e via San Cassiano oltre al progetto per l'adeguamento sismico presentato per la ristrutturazione dell'edificio comunale e per il quale è stato ottenuto un finanziamento di 270.000 euro decisamente insufficiente per mettere in sicurezza l'edificio comunale per una parte privo di fondamenta e per il quale intendiamo presentare ulteriore richieste di finanziamento confermiamo l'interesse per un progetto di rigenerazione urbana e di riqualificazione degli edifici del centro storico ed anche per l'ex cinema capital confinante con l'edificio comunale per una destinazione di attività per delegazione comunale polifunzionale qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria sull'edificio comunale prevede necessariamente la necessità di intervento su questo edificio che ha una collocazione importante nell'ambito di un progetto di riqualificazione della città ed una potenzialità di utilizzo polifunzionale per lo sviluppo delle attività sociali culturali e aggregative della nostra comunità che dovremo verificare però sulla base di accessibilità a specifici finanziamenti statali o regionali assume un rilievo di grande importanza il progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio della tribuna un monumento simbolo della città e per il quale abbiamo ottenuto il contributo della fondazione Cassa dei risparmi di Forlì oltre al contributo art bonus dalla società Romagna Acque i cui lavori già affidati per il primo stralcio si avvieranno nel prossimo mese di marzo per il completamento del secondo stralcio dei lavori presenteremo richiesta di finanziamento alla fondazione Cassa dei risparmi di Forlì prevedendo una quota parte a carico del nostro comune un progetto a cui si affianca la riqualificazione dell'ex spesa un piccolo edificio simbolo di archeologia industriale ristrutturato grazie al contributo della fondazione Cassa dei risparmi di Forlì e a risorse autonome dell'ente del quale si attende il completamento dei lavori in conseguenza del ritardo e di alcune forniture nei primi mesi dell'anno si avveranno i lavori per la realizzazione del secondo strato del percorso fluviale grazie al contributo di 98.000 euro della regione Emilia Romagna e di 22.000 euro di risorse proprie che si integrerà con il percorso da poco inaugurato che collega l'area del casone alla zona sportiva un'opera realizzata grazie ad un importante contributo di 100.000 euro concesso dalla regione Emilia Romagna nell'ambito di un progetto di valorizzazione dei percorsi ambientali il percorso fluviale giungerà a collegare l'area dell'ex macello sede della scuola di musica per giungere in prospettiva fino all'area delle portacce un percorso che vogliamo valorizzare nella prospettiva di completare il collegamento per farne un percorso urbano capace di valorizzare il perimetro dell'acqua con l'abitato e il suo centro storico confidiamo nel finanziamento del progetto di circa 100.000 euro ammesso dal Gara Altra Romagna per l'intervento di qualificazione dell'area della piazza d'armi della Roccaccia che riqualifica un'area dell'edificio simbolo della nostra comunità per poterne fare un punto di utilizzo nella valorizzazione dei percorsi e di aggregazione in occasione di eventi e manifestazioni nel corso dell'anno si sono avviate iniziative di valorizzazione territoriale che hanno visto il nostro comune partecipare attivamente in collaborazione con i comuni della Romagna Toscana oltre che al progetto interregionale promosso dalla Repubblica di San Marino in collaborazione con il Ministero del Turismo e le regioni Emilia-Romagna e Marche ci siamo posti l'obiettivo di promuovere opportunità di valorizzazione turistica del nostro territorio entrando nel circuito dei cammini diventando protagonisti di un progetto originale di attrazione culturale ed ambientale attraverso l'individuazione dei percorsi ambientali presenti nel nostro territorio con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze ambientali ed enogastronomiche il progetto e il festival dei sentieri agrourbani ha colto un'esigenza diffusa fra appassionati operatori economici del territorio associazioni culturali guide escursionistiche ed ha portato alla realizzazione di cartografie mappatura dei sentieri realizzazione di un sito attivo e seguito ben oltre i confini regionali creando attenzione e portando nuovi visitatori nel nostro territorio è un progetto che intendiamo riprendere e innovare che intende mettere in rete gli agriturismi le strutture dedicate all'ospitalità le cantine attività economiche ed eventi culturali che per Modigliana rappresentano un'opportunità per lo sviluppo di un settore turistico che guarda con sempre maggiore interesse all'area colinare è in questo contesto che vogliamo promuovere un progetto di valorizzazione della roccaccia e delle case della roccaccia ricercando le opportunità promosse dal PNRR ed anche attraverso la partecipazione ad un bando dell'Agenzia Nazionale del Demanio per la ricerca e selezione di un progetto che metta questi edifici nella condizione di poter essere recuperati ai fini di utilizzo anche ricettivo con l'obiettivo prioritario di recuperare ad un uso pubblico gli edifici così strettamente legati alla storia di questa comunità nell'ambito di un progetto di valorizzazione ambientale riveste un ruolo prioritario la tenuta di Montebello una risorsa di questa comunità a partire dalle potenzialità di attrattività che può esercitare per intero territorio come ha dimostrato la straordinaria partecipazione di tante persone e famiglie agli eventi organizzati nel corso dell'estate 2021 in collaborazione con la fondazione Alber Italia siamo interessati a ricercare le condizioni per poter rientrare nell'ambito degli accordi di foresta su cui si stanno avviando progetti di collaborazione fra enti istituzioni università che riguardano il tema della gestione forestale lungo il crinale dell'Appennino Tosco Romagnolo il tema di un'economia dell'ambiente torna quindi anche nelle scelte del bilancio di previsione in cui il nostro comune può portare un proprio contributo nella prospettiva di sviluppo della nostra comunità dovremo affrontare le problematiche relative al funzionamento degli impianti fotovoltaici di nostra proprietà prevedendo interventi necessari a garantire una migliore produzione di energia rinnovabile attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie con l'obiettivo di mettere a valore gli impianti già attivi allo stesso tempo dovremo proseguire negli interventi di manutenzione sugli edifici di proprietà pubblica privilegiando il risparmio energetico di switch